chatou d'ambole 1996 blande blande 930 euro niente non c'è più nessuna reazione telefona tra vent'anni da quanto è che uccidi? tutto il povericcio e genio? tu e tau io adesso non so abbiamo perdonato tutto ma perdonato cosa? il rolex il zuf gli slip simona non so rispondere fuma si è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza il bimbo resta piccolo era infantino avete già deciso come chiamarlo? si bernardo è bellissimo come Bertolucci ma è il maschile di bernardo luca, matteo, paolo come te no bruto? no se spingi quel coso dai più non mi viene burnici non mi viene ma rendono dai dicelo non sta scherzando? ma certo questa scherzata ma non scherzo affatto ci piace molto è originale ma classico non mi piace? no non mi piace simona tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese insomma prende lezioni da uno che ha chiamato i figli pin e scintilla parla o parlo io? parla con l'amore hai dieci tweet allora tweetami sto cazzo io mio figlio lo chiamo come mi pare capito? no non puoi ciao mamma come va? benissimo bella serata tu pensi che io sia omosessuale? l'ho mai vista con una donna a parte betta con betta tutto anche le cerette adesso lo dici diglielo non sono pronti non sia cosa